Prospettiva per le città creative significa leggere il passato, leggere il contemporaneo e proiettarsi verso il futuro. Creatività come processo che genera innovazione e semplicemente far comprendere al territorio che già sta esprimendo creatività e che quindi può esprimere innovazione. La prospettiva del turismo inogastronomico è proprio quella di non inventarsi nulla ma di rileggersi, raccontarsi e soprattutto di mettersi in relazione, quindi uscire dal proprio territorio e rendersi conto che i turisti devono diventare cittadini del mondo e quindi muoversi non per andare in un giardino zoologico ma per vivere la vita dei luoghi in cui si trovano.